Frase, ok. Più bella l'è, più il premio l'aumenta. Mi spero solo in dialetta. Devo girare... Vesca una carta. 30 secondi di tempo per fare una frase in dialetta. Da gandre a vendere chimaini, che sono mia di ciò che piace. Nesta è più in vota. Allora, quando c'era il Covid, dovete trovare la nesta a dire più in vota. Da gandre con il tirabusson che andiamo da bella alla masca. Da bella, da bella! Ne ho un lavoro da masca perché? Da gandre con calvitaica che ho un stoffo che in cucchia e se ne vestia. Bravessi! Da gandre, 5 euro da spendere che? In dal negozio che piace. Seguici sui social. Instagram, Facebook, Aemilias. Grazie a tutti!